All'inizio si parte con 15 monete C'è 5, 5 più 5 e papà invece ha preso 5 Più 2, 2 e poi 1 Il gioco devi tirare il dado, 5 passi, no 4 Fai 1, 2, 3, 4 Sulla tua lista della spesa, che questo devi comprare Io devo comprare quello? Sì, allora questi qua sono le carte busta E io lo metto qua e devo pagare 2, 2 euro Ma io non pago 5 euro E me ne riprendo 3 Poi si va avanti sempre così? E però se invece non vuoi Quando se tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non voglio niente Io pesco la carta Poi ci sono anche delle altre carte Che qua devi andare a questo chiosco Quella giusta Qua ti fanno pagare Lo sconto Ecco E qua 5 Prendi 5 monete Qui salti un turno Perché parli con un amico E poi qua prendi 5 monete E ogni volta che fai il giro completo Prendi 5 E questa è un'altra carta Che puoi andare dove vuoi Al negozio che vuoi Ecco Ecco E poi puoi anche andare Nei negozi Dove ti fanno pagare E non ti fanno comprare niente Perché ti stai divertendo La giostra E il chiosco La giostra e il chiosco Ecco E chi vince? Chi vince? Chi vince? Vince chi prima finisce? La lista della spesa Ecco Sì E' fermato Di sf positionedi Ci sia Prendi 6 Penso Immenterous Di sf焉 Mi 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 Si Chi Mi 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 Grazie a tutti